Allora, eccoci qua di nuovo con Focus in diretta, come sempre 2206, titolo Rocchetta e Chiavegato Liberi, i numeri precisi sono 7 scarcerati e 5 gli arresti domiciliari, quindi conosciamo i nomi dei due più importanti, Rocchetta e Chiavegato che è leader dei Forconi e gli altri per ora non si sanno i nomi, ma insomma li sapremo domani. Allora, io volevo fare anche delle altre precisazioni, finora abbiamo parlato appunto, naturalmente rispondendo ai nostri ospiti qui presenti del PD sulla questione federalismo sui vent'anni che secondo loro sono stati inutili, dove invece si è lavorato eccetera, però per quanto riguarda adesso la situazione dei serenissimi e dei venetisti ho qualcosa da aggiungere, cioè di fronte ad ogni realtà bisogna sempre apporsi il problema, una domanda, a chi giova? A chi giova? E una cosa giusta è stata detta, una sola da loro, che da questa questione ne ricava la Lega, questo è vero, la Lega che io preciso non chiamo più Lega perché non è più la Lega, questa non è più la nostra Lega, questa è la cosa 2.0, quella appunto di Barbaris Sognanti come è stato ricordato e di cui il segretario federale attuale, va bene, che non era mai venuto in Veneto, adesso qua ultimamente viene in Veneto e si intesta questa cosa dei venetisti, cosa dei venetisti che anche lo stesso Rocchetta ha denunciato e che ha detto cosa c'entra la Lega con questa nostra battaglia, ecco, e questo io condivido e su questo do ragione e dico anche che la Lega era al 3, qualcosa per cento, con la questione dei venetisti sembra che sia balzata di qualche punto. Allora a me viene anche un sospetto, siccome io di solito vado avanti con le mie idee, sono molto precisa, ma sono anche molto realista, sono anche molto realista, i nostri amici, i contin che abitano lì vicino a me, a faccia, tutti questi qua, questi sono i venetisti del 97, sono quelli che sono stati in prigione cinque anni, sono quelli cinque e anche forse di più, sono quelli che hanno subito e che adesso, e loro non hanno mai rinnegato le loro idee e queste idee le hanno sempre avute e si sono mossi anche con queste azioni che sono state definite folcloristiche o goliardiche, ma perché? Proprio perché sono espressione di un disagio effettivamente reale, effettivamente reale e che esiste. Queste sono persone, è stato detto anche sulla stampa, che erano intercettati da 3-4 anni. Caso strano, chi è che fa le intercettazioni? Cioè, gli ordini di fare le intercettazioni io credo avvengano e vengano impartiti da organi precisi. Mi piace ricordare il Ministero dell'Interno, mi piace ricordare la magistratura che però non si muove così autonomamente, ma che appunto riceve anche degli input. Quindi mi chiedo, il fatto che siano usciti adesso, in questo momento, prossimi alle elezioni, con questa cosa dei venetisti, quando sono 3-4 anni che queste persone sono intercettate, è un caso? Io non credo. Allora, questa è una domanda a cui adesso sentiamo l'onorevole Lanzarin. Volevo ricordarvi domani seguite l'intervista di due ore a Luca Zaia perché gli abbiamo fatto molte domande sull'indipendenza e anche su quanto ha detto il professor Luca Antonini, che è un po' il padre del federalismo, che ha paventato un intervento del Capo dello Stato che potrebbe sciogliere il Consiglio regionale nel caso passi nel voto del prossimo giugno il referendum consultivo per l'indipendenza, con addirittura conseguenze penali per Zaia. Questo abbiamo chiesto al governatore oltre a molto altro. Allora, c'è una dietrologia, secondo lei, c'è un grande vecchio che per portare voti, per indebolire la Lega interviene... No, per rafforzare. No, per rafforzare la Lega, perché chiedo scusa, interviene in questo senso. Per rafforzare. Non do questa lettura, come non do la lettura che la Lega stia cavalcando queste cose o comunque stia aumentando nei sondaggi. La Lega ultimamente stava aumentando nei sondaggi dopo le vicissitudini, lo sappiamo, le spaccature, le diaspora internet, tutto quello che è successo. Insomma, la collega Goi si sa bene di cosa stiamo parlando, ma soprattutto sta recuperando da quando c'è un nuovo segretario federale, Matteo Salvini, ma soprattutto da quando siamo ritornati a fare politica, a essere più presenti, a prendere in mano quelle che sono le tematiche che sono sempre state le nostre, dal federalismo alle ingiustizie, all'immigrazione clandestina, a tutto il resto e soprattutto la campagna no euro. Mi sembra che è su questo qua, perché il sentore generale è quello effettivamente che alla gente, insomma, questa Europa così come è concepita non piace, molti dei problemi sono legati appunto a un'Europa di questo tipo e quindi anche il fronte e il no euro tour che ha toccato anche Padova, rispetto mi sembra a Treviso, non so se è già venuto, eccetera, sicuramente è quello che ci sta dando, insomma, dei risultati e quindi anche un guadagno di voti, di percentuali in questo senso. Sul fatto che poi sia successa questa cosa qui dei venetisti e che la Lega si sia schierata, io dico bene, perché per il passato probabilmente sono stati fatti degli errori quando ci sono state delle divisioni, quando insomma ci sono creati i mille partitini autonomisti e quindi se adesso c'è la volontà di cercare di raggruppare o comunque di, perché il fine comune è unico, non vedo cosa c'è di male. Mi dispiace che la collega, non credo che la gente interessi sapere quindi le diatribe o comunque chi ha, deve levarsi qualche sassolino rispetto a qualcos'altro. Cioè io credo che l'importante, l'importante... Questa lettura è stata fatta anche da altri. Bene, io la lascio, sì, va bene, io lascio che la lettura la facciano chi deve fare le letture non raccontare per Zellette, era il 3,3, stava crescendo già, stava crescendo già, no sì, dello 0,1 alla volta, 0,1, ma questa non è più la Lega, questa è la cosa 2,0, ma per te è la cosa 2,0, per me è il partito con cui ho iniziato a fare politica con cui sto facendo politica. Non stai scherzando? Poi tu fai il tuo percorso, cioè... Ma fai bene a dire quello che penso, però è una tua opinione, è una tua opinione, è una tua opinione, dai, con l'andrangheta, Verona ti dice niente, è veramente inquietante. Che si sta sgretolando piano, ti dice niente, Verona. Così era un astro nascente, ma adesso... E che adesso, aspetta, perché adesso va a cercare il cappotto per ripararsi dal freddo. E che lui voleva diventare il leader del centrodestra mondiale, no, voleva diventare il leader del centrodestra mondiale, fare le scarpe anche a Zaia, tra l'altro. Ma a parte questo piccolo, un picco particolare dal gossip, ecco, vero, d'altro canto, anche vero, si è messo a fare queste cene a crotone... Tutti sono tutte, tutti sono tutte, no, tutte sono tutte... No, 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 ma ho concluso, ho concluso, ce l'ho detto, ce l'ho detto, ce l'ho detto... Cioè, io ho concluso, nel senso che non ritengo che questo, insomma, sia stato, cioè, fatto a tavolino o comunque per la tavolina, eccetera... scientificamente... Va bene, questa è la tua opinione, questa è la tua opinione, è l'opinione che tu ti senti di dire e io l'accetto, non c'è nessun problema. Vedremo, i risultati daranno... È vero o non è vero che fino a dieci giorni fa la Lega era il 3,3%, è vero? No, era già risalita un po', non c'è... Ma no, è il 3,3%. Adesso, su cosa è attestata la Lega, su cosa viene data? Adesso qualcuno sui 5, 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 sui 5... Un avvicinamento, dai. Sì, un avvicinamento, poi lo faccio io. Ok. No, e tutta questa storia, come dicevo anche prima, ci racconta evidentemente di un disagio che è percepito da una regione come la nostra, che sa che ha grande potenzialità, che vuole esprimerle fino in fondo e noi ne siamo del tutto consapevoli, tra l'altro l'ha detto anche Renzi quando è venuto a trovarci al Vinitaly. Però qual è il modo migliore per riuscire a invertire questa sensazione di disagio? Io credo che non sia quella di chiuderci noi stessi, ma quella di dimostrare che si può fare uno Stato efficiente, uno Stato efficiente che poi garantisce anche dell'equità fiscale alle regioni, come noi chiediamo giustamente anche per il Veneto, ma la prima cosa da fare è dimostrare che si possono fare delle azioni di giustizia sociale come quelle che abbiamo dimostrato oggi, cioè dando dei soldi in busta paga ai lavoratori, a quelli che prendono meno di 25 mila euro, oppure tagliando il 10% dell'IRAP e dove andando a prendere le risorse, tagliando gli sprechi, tagliando le auto blu, diminuendo il numero di partecipati, diminuendo le risorse per le spese militari per gli F-35, ecco io credo se continuiamo in questa direzione, cioè dimostrando che la buona politica, la bella politica si può fare e si può migliorare il Paese e il sistema Italia, credo che anche la sensazione di disagio di chi vive in Veneto ed è contro Roma, possa in qualche modo scemare o venire meno, perché? Perché la risposta è proprio questa da dare, dimostrare che si può cambiare e questo è quello che sta facendo Matteo Renzi e credo che tutte le forze politiche si debbano in questo momento interrogare con responsabilità in che modo possono contribuire alla ripartenza del Paese, perché poi agganciando anche del tutto la ripresa e anche con maggiore capacità di spesa economica, anche questi temi vedrete saranno temi che saranno trattati sempre meno e il Veneto si renderà conto che inserito nel sistema Italia, inserito nel sistema Europa può agganciarsi a questo volano di crescita. Faccio un esempio, il prossimo anno ci sarà l'Expo 2015 a Milano, ma vogliamo immaginarci un Veneto indipendente fuori dall'Italia come potrebbe godere di un evento di livello internazionale così importante che è un traino per l'economia? Non lo farebbe? Quindi è evidente che dobbiamo sistemare le cose che non vanno, ci stiamo impegnando tutti i giorni per farlo, rimanendo nel sistema Paese che è quello che ci può dare il giusto traino per sviluppare tutte le potenzialità che la nostra regione ha e che alla nostra regione noi li riconosciamo in pieno. Allora, non è che per carità, benissimo, iniziamo, speriamo che siano operazioni concrete, tangibili, speriamo, ci auguriamo tutti. Il decreto legge è già domani in gazzetta ufficiale. Vedremo appunto se si troveranno gli 80 euro in busta paga, vedremo tutto il resto, insomma. Però non è che con gli 80 euro in busta paga, in più ai retti sotto i 25 mila euro, risolviamo il problema dei piccoli imprenditori che c'è soprattutto qui nel Veneto. Abbiamo sbloccato i debiti della pubblica amministrazione, abbiamo tagliato l'Irape. Quindi c'è un'attenzione particolare, probabilmente dovrebbe essere posta al Veneto, visto che non è stata posta in tutti questi anni. Quindi probabilmente, se Renzi, oltre a fare i tour, viniteli di qua e di là, insomma promettere, eccetera. Renzi piace moltissimo anche a molti elettori vostri che onestamente dopo anni di cominciano a dire vogliamo qualcosa. Ma vogliono le cose concrete. Finalmente le cose concrete stanno arrivando. Per esempio, posso vendere le macchine blu. Peccato che ne ha vendute quante? 120, 150? Assolutamente. Ma ne compra 250 giorni. Questo non è vero, questo non è vero, questo non è vero. È verissimo, è verissimo. No, mi dispiace che la Doge si cadi nel trabocchetto in cui hanno cercato il Movimento 5 Stelle di farci cadere. Perché allora si è raccontata questa storia, però anche per aggiungere degli elementi di chiarezza forse è bene, insomma, dedicarci un minuto. Allora abbiamo il desigio di vendere 150 autoblue su internet e subito il Movimento 5 Stelle dice, eh però Renzi ne sta comprando altre 200, no? Subito anche io mi sono andato a interessare perché ho detto, non può essere possibile. Allora cosa emerge? Emerge che in realtà ancora il governo Letta aveva dato mandato alla Consip, che è insomma l'ente che fa gli acquisti a livello centrale, di vedere quale sarebbe stato il prezzo per un possibile acquisto di auto blindate per le forze dell'ordine. E quindi hanno fissato il prezzo di 200 autoblue per le forze dell'ordine, che non vuol dire che sono acquistate, che se però lo Stato esercita il diritto di acquistare le paga al prezzo fissato della Consip. Quindi non c'è nessun acquisto di autoblue e per di più non è stato fatto dal governo Renzi. E' solo una possibilità di acquisto. Non dobbiamo cadere nella propaganda che deve essere. Perché poi quando si vanno a vedere le cose come stanno in realtà si capisce chi racconta chiacchiere e chi invece si basa su dati concordi. Intanto, dopo tante parole, almeno qualche autoblue è stata... Vecchia però... Vecchia però... Vecchia però... Ovviamente è partita anche parte quella delle amministrative, saranno depositate le liste tra pochissime ore. Vediamo la situazione a Padova per quanto riguarda la Lega. Il centrodestra punta come unico candidato, come sapete, Pitonci con l'appoggio del forzista Nicola Lodi che diventerebbe vice sindaco. Vediamo il servizio. Il tema della sicurezza è la prima uscita che facciamo pubblica questa coalizione, quella vera coalizione centrodestra. Prima uscita pubblica della coalizione che sostiene il candidato sindaco della Lega Nord Massimo Pitonci. Il tema è il cavallo di battaglia che unisce anche Forza Italia e Fratelli d'Italia, la sicurezza. Puliremo la città dagli accattoni, dagli zingari che girano questa città, dai delinquenti. In collaborazione con le forze dell'ordine compaderemo spaccio, prostituzione. Noi vogliamo che sia ancora così, che non sia il paesello che si sta spopolando perché la gente se ne va, non vive più bene qui. Ho sentito una signora adesso prima, diceva sto facendo il trasloco perché non mi sento più sicura in questa città. Ho detto signora aspetti un attimo a fare il trasloco perché sta arrivando Pitonci. Proposte sciocche le ha definite Pitonci, dal punto sicurezza nei quartieri all'incremento delle telecamere. Il primo atto, se verrà eletto sindaco, dice un nuovo regolamento di polizia urbana ed ordinanza ad hoc contro il degrado. È una situazione ormai fuori controllo. Io abito per esempio in una zona abbastanza disagiata, abbastanza per dire poco che è la zona della stazione. I miei figli escono di casa e ogni volta che devono rientrare io resto col patema d'animo. Mi sembra che non sia una condizione vivibile per una città civile. Pitonci potrebbe tenere per sé la delega alla sicurezza. Non ne fa mistero, ma intanto da Fratelli d'Italia arriva la proposta di collaborazione dall'ex assessore regionale della sicurezza. La consulenza te la darò gratuitamente e la darò a un uomo di centro-destra. Servizio di Valentina Vicentini. Paolo Cosi, come la vede su Pado? Bitonci può spuntarla? Per me no. Non ce la fa. Non è questione di sassolini nelle scarpe o di cose del genere. Chiaramente noi di Prima e Vendo siamo stati forse tra i primi che abbiamo deciso di appoggiare Saia. Saia perché lo conosco, l'ho conosciuto anche quando era a Roma, che era prima deputato, poi senatore, poi insomma, e che ha sempre seguito l'argomento della sicurezza, insomma, e che ha dei programmi ben chiari ed è conosciuto a Padove, conosciuto da tutte le forze dell'ordine. Cosa ne pensava il fatto che siano entrati anche Depoli, L'Udc, NCD, Udc, insomma, no? Ecco, infatti, infatti lo stavo dicendo. Non so cosa ne fare prima. E perché siamo entrati? Siamo entrati proprio perché Saia, oltre ad essere competente, è una persona coerente e leale. Quello che dall'altra parte invece non c'è stato. Stiamo parlando dei due sindaci di cui si è... Chiudiziano Anato Rossi, Fiore, insomma... No, 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 non sto parlando della sinistra. Ah, non della sinistra. Di chi stava per cui siamo la lealtà. Chiamiamoli del centro-destra. Ah, ok. Chiamiamoli del centro-destra. Allora, è evidente che se si vuole lavorare con una persona, si lavora, si lavora quando si crede in quella persona. Io ho lavorato per vent'anni, sono stato per vent'anni con Bossi, l'ho sempre sostenuto, l'ho sempre appoggiato, anche nei momenti più brutti, più duri, quando appunto gli è stato costruito quel pacco che io ritengo, è stato costruito appositamente perché qualcuno doveva impadronirsi del partito, della cassa, 40 milioni di euro, doveva impadronirsi e avere poi in cambio la Lombardia. Si era detto, Maroni, no, il complotto, ex ministro degli interni, insomma, così era... Esattamente, che io sostengo, che io sostengo ancora anche adesso. L'ho sostenuto da subito, sapevo poi quali saranno state le conseguenze, gli ho detto traditore davanti a tutti e gli infaccia. Insomma, non è che abbia paura delle mie... No, sappiamo che non le manda a dire. Ecco, è questo. Quindi il fatto di avere appoggiato da subito Saia, il motivo è questo, perché di qua ho visto una persona leale, dall'altra parte, quello di cui si è parlato prima, no. Tanto è vero, faccio proprio una parentesi brevissima, tanto è vero che si tratta di una persona che noi abbiamo candidato, appoggiato, sostenuto, ho fatto votare nel giro di una settimana, l'abbiamo portato al 43% rispetto a Tosi, che Tosi ha preso il 57% e quindi non ha fatto quel gran trionfo, perché noi l'abbiamo appoggiato, l'abbiamo votato anche per andare in Consiglio federale, dopodiché il classico, chiamiamo, girata di spalle, giusto per non essere troppo, troppo, troppo duri, ma quello è significato, o coltellata la schiena, o mettiamo come si vuole. Quindi non possiamo appoggiare assolutamente Bitonci. Poi degli altri, ecco questo è molto interessante, perché sia l'Udc sia tutti gli altri, ci sono dieci liste che appoggiano Saia, e se ci sono dieci liste anche di quelle che magari prima avevano fatto l'occhiolino dall'altra parte, se sono venuti di qua, evidentemente perché non si è parlato di partiti, ma si è parlato di persone, si guarda le persone, si guarda la serietà, si guarda ciò che la persona significa. E quindi stiamo assistendo proprio a questo fatto che si stanno avvicinando, si sono avvicinati anche ieri o l'altro ieri, c'è stato l'accordo anche con Comincini, con Comincini, poi c'è stato con Minorello, che è prima da fuori, ci sono stati con Minorello, e addirittura anche con una buona parte di Forza Italia, perché se è vero, come è stato detto prima, i vertici appoggiano Bitonci, però la base e gli elettori appoggiano Saia. Allora, scusate, vediamo, visto che parlavamo di Saia, proprio il servizio di oggi, con il sostegno, l'ingresso di NDC Udc, vediamo. Vorremmo anche farvi vedere il simbolo per la città, che è questo. Nuovo centrodestra Udc, Partito Popolare Europeo, entrano nel simbolo di Maurizio Saia, candidato sindaco con la lista Rifare Padova, l'annuncio ufficiale oggi. Fin dall'inizio, appoggiato dal nuovo centrodestra con l'endorsement di Barbara De Gani, ora arriva anche l'appoggio dei partiti del centro, come l'Udc di Antonio De Poli e i popolari di Mario Mauro. L'obiettivo è di portare i cittadini padovani a cambiare amministrazione, a cambiare modo di far politica e modo di rapportarsi con la politica. Obiettivo ballottaggio e presto Saia potrebbe svelare anche nuove alleanze. L'incognita è quella di scelta civica, che a Padova ha il suo candidato Andrea Colasio, ma pare che a livello regionale ci sia una divisione. Quello che è importante è che attorno a questa candidatura sulle città e a questo progetto veneto stanno conferendo tante persone che in qualche modo rafforzano il nostro progetto. Ieri i due consiglieri regionali, dico io, anche se oggi uno è parlamentare, di scelta civica veneta, cioè coloro che sono stati eletti a preferenze dai loro concittadini, assieme ad altri amici, hanno scelto di votare questa lista. L'adesione dell'Udc darà valore aggiunto al programma sul sociale di Cessaia e proprio queste intenzioni hanno portato all'intesa. Condivido il nostro progetto e il nostro programma in modo particolare sugli aspetti delle fasce deboli della nostra popolazione, quelli che sono senza lavoro, quelle aziende che stanno chiudendo, tutte le politiche che vanno verso la salute, quindi i nostri ospedali, l'attenzione che vogliamo dare al sistema sanitario padovano che per molto tempo è stato abbandonato da questa amministrazione, al sistema sociale. Allora avete visto parlare adesso Antonio De Poli e prima di lui Marino Zorzato, vicepresidente della regione. Marco Giovanni voleva dire? Io posso dire che secondo me, io non conosco molto bene la realtà padovana, lo metto, però posso dire che la persona che è stata citata prima, che è Domenico Menorello, è un'ottima persona che conosce molto bene Padova e i suoi problemi e sono molto felice di questa questione qua, infatti De Poli per me ha parlato molto bene. C'è voglia di popolarismo, quindi il PPI, che è il Partito Popolare Italiano, ha voglia di tornare in mezzo alla gente. I politici oggigiorno si dimenticano sempre di stare in mezzo alla gente e questa secondo me è una cosa invece che deve tornare praticamente. I politici devono andare in strada e capire davvero i problemi delle varie città, che può essere Padova, che può essere Venezia, che può essere Vicenza, Verona, Milano, Roma, qualsiasi città, però i politici devono comprendere, annusare l'odore della strada e capire quali sono i problemi per poter intervenire. Io penso che questo sia un simbolo vincente. PPI, NCD e UDC naturalmente, secondo me faranno un ottimo risultato a Padova. E attenzione a Domenico Menorello, perché secondo me è un'ottima persona. Allora, con l'onorevole Bortoletti, ieri sera in questo studio c'era l'onorevole Sergio Berlato, che è stato parlamentare europeo per tre legislature, che ieri era protagonista della serata, perché Forza Italia non l'ha candidato. Lui si aspettava, poi alla fine ha capito che c'era qualcosa che non andava, è passato a Fratelli d'Italia, si candida con Fratelli d'Italia. Però la domanda è questa, sosteneva Berlato che è stato vittima di due… Ma se Forza Italia l'avesse candidato non sarebbe passato con Fratelli d'Italia? Sì. Arguisco. Beh, certo. Questo è un esempio del politico perfetto. Sì, sì, ma lui l'ho anche detto ieri sera, si è candidato in Fratelli d'Italia perché si è sentito tradito dall'ex ministro Vittoria Brambilla e la deriva animalista, ha detto sono vittima di dudù, e poi dal fatto che è considerato molto male da Galan, dalla Sartori, dal vertice di Forza Italia perché è stato lui a presentare in procura varie denunce contro il malaffare, no? E dice questo mi è costato. Quindi una domanda molto pertinente per lei che col malaffare ha avuto a che fare a lungo, no? Sanando la situazione dell'Asda. C'è uno che è in Forza Italia e combatte contro il malaffare? Mi sembra uno simbolo. Grazie, beh, vai diventamente a combattere in casa. Uno che è in Forza Italia e combatte malaffare. Tra l'altro, a proposito di malaffare, dal 2000, 2001, 2002 insegno più università, sociologia della devianza e analisi dei fenomeni criminali. Hai. Ho poco da aggiungere alla situazione dell'onore Berlato, se non per questo, che penso che lui farà la sua corsa, a parte commentare a una persona che non c'è, a me non piace, non penso che sia opportuno. Dico solo questo, che ognuno farà la sua corsa in questo collegio. L'idea con Giorgia Meloni, con la quale io scrivo e collaboro in Officina per l'Italia da qualche tempo, come tecnico esterno, proprio perché, ripeto, ormai ho scritto libri su questa materia, insegno da tempo, e proprio invece quella di puntare su questa, leggere il territorio e puntare su questa situazione di estrema difficoltà che si percepisce nella quotidianità di questa regione, che invece potrebbe dare molto e da cui tutti siamo d'accordo, se riparte l'Italia, riparte perché il vento, prima di tutto, riparte. E proprio le diseguaglianze, tra l'altro, più recentemente, Christine Lagar, che è la Presidente del Fondo Monetario Internazionale, ha detto che sono il principale problema oggi, più che ripresa, crisi, spreddo da altri temi che sono affastellati in questi anni, sulle pagine di tutti i quotidiani, nelle varie analisi degli addetti ai lavori. E le diseguaglianze sono quelle che emergerono tra l'altro prima da questi filmati che ti ho mandato, dal dibattito anche qui in studio. L'unico modo per uscire, per lavorare su queste diseguaglianze, è appunto quello di ritrovare un'equità condivisa, cioè una proposta che possa di nuovo essere credibile, possa di nuovo costituire un saldo punto d'ancoraggio per i cittadini di questa regione, principalmente. E faccio un esempio banale, proprio concreto, che è quello dell'equità, secondo me, che è la principale assente in questo dibattito, perché quando si percepisce che è una cosa equa, si può pensare che sia giusta o ingiusta, ma di fatto l'equità oggettiva fa sì che quella si può criticare per una posizione politica. Si può dire che non si è d'accordo, si può dire che si potrebbe fare meglio, però l'equità è quella che alla fine ci unisce su una proposta unica. Porto l'esempio, non è possibile che nel 2014 ancora ci siano ragazze come io ho avuto modo di conoscere qui in Veneto, che soffrono di una malattia rara e che si devono pagare loro la ricerca, perché non c'è nessuno che riesca a tirare fuori in 112 miliardi di euro di spesa sanitaria, nonostante proposte ne siano state fatte, c'è una molto bella, non perché abbia partecipato, di Action Institute che è una cosa nata tra i principali studiosi della materia a livello internazionale, consultabile sul sito dove a 5 anni c'è una proposta per ridurre della spesa sanitaria lo stock di 15 miliardi di euro, senza togliere nulla a nessuno ovviamente, solo chiudendo e pulendo gli sprechi come si dice tecnicamente, togliendo le punte, quelle che non ci devono stare. E questa ragazza si deve pagare per questa malattia stranissima che è la tassia di Friedrich, si deve pagare lei le spese della ricerca e questi poveri genitori si devono dare da fare con decine di manifestazioni e di invenzioni varie per trovare i soldi per riuscire a far proseguire la ricerca su una cosa che non interessa a nessuno perché di fatto non rende, perché i clienti, i pazienti sono talmente pochi che alla fine nessuno spende, nessuno investe per una cosa di questo tipo. Io penso che questo sia un esempio chiaro di cosa sono queste diseguaglianze e di cosa sarebbe una ricerca di un'equità condivisa, cioè trovare un modo di guardare al futuro più che continuare a fare analisi del passato che magari punti a dire e iniziamo a togliere a livello europeo tutti gli sprechi che continuiamo a parlare, ad esempio io mi chiedo sempre cosa ci fanno 33 dipendenti dell'Unione Europea all'isola Fiji, oppure 44 aborici, oppure perché abbiamo speso 180 mila euro, mi parlo, 180 mila o 130 mila adesso non mi ricordo, per partecipare al rally delle auto elettriche in una bellissima isoletta dei Caraibi, come rendi contatto ovviamente sulla pagina dell'Unione Europea, della delegazione che sta ai Caraibi dove ci siano impiegati 44-47 persone e così via, potremmo anche pensare a chiederci perché i ballerini belgi devono andare in Burkina Faso, non vorrei ricordare male sempre, a insegnare la danza alla popolazione africana oppure come mai l'Unione Europea ha speso 8,8 milioni di euro per creare un centro per la creazione di posti di lavoro per facilitare l'inserimento degli abitanti del Mali in Europa e dopo 3 anni gli abitanti che sono stati aiutati in questo sono 6 per un costo pro capite di 1,4-45 milioni di euro. Allora io potrei andare avanti a narrare tutto quello che c'è da fare in Europa, io penso che la spendiera più sia questa, penso che si potesse fare molto, io sono stato invitato dal Ministro Giarda nella primavera del 2012 che ha voluto capire esattamente cosa stavamo facendo a Salerno, ho parlato varie volte con il Ministro, parte di quella storia è dentro il rapporto Giarda che ha chiuso l'esperienza poi nel 2013 e da cui poi è ripartito il Commissario Cottarelli, penso che questo sia il tema su cui lavorare perché da lì vengono fuori risorse appunto per lavorare e per riportare equità, a questo punto è vero che da una parte magari qualche regione d'Italia, ovviamente si sa il pile più alto rispetto ad altre regioni d'Italia, ma troveremo tutti una sintesi e un equilibrio che consenta a tutti di trovarsi insieme e uniti all'interno di questo paese. Certo per far questo, come ripete sempre Giorgia Meloni, bisogna rileggere le regole dell'euro e rileggere le regole di questa Europa, perché questa Europa che manda tre dipendenti all'efficio, oppure chiude la delegazione a Vaitanu che è un'isola, un'isoletta a largo del Pacifico, lo fa anche dopo diversi anni, perché sono volute diverse insistenze per far chiudere questa delegazione, è chiaro che bisogna ripensare queste regole, ripensare questo euro, magari portando a ulteriori conseguenze questa unione monetaria che ancora tuttora non c'è e quindi è chiaro che la prospettiva è no a questo euro e no a questa Europa, perché questo non può più stare bene di fronte a fatti come quelli che vi ho narrati, ma si potrebbe andare avanti a lungo a raccontarli. Allora, lei ricordava il Ministro Giarda, per chi se lo fosse dimenticato, era stato soprannominato Dumbo per delle orecchie a sventola, imbarazzanti, io ho ricercato a lui l'ho chiamato a telefono, mediaticamente viene ricordato. Era a Salerno e mi chiamò lui direttamente sul cellulare e mi dice sono il Ministro Giarda, lei dov'è? Mi chiamò a Salerno e mi convocò in questo modo, una semplicità spettacolare. E voi del non PD non fate altro che danneggiare proprio le paese fregandomene sempre comunque dello Stato. Allora, andiamo a vedere un altro cavallo di battaglia che è quello della sicurezza, ma sentiamo la gente, ieri abbiamo parlato della polemica sulle panchine che erano state tolte da gentiline anni fa, avevano provocato reazioni vivacissime, adesso le ha tolte Bettin da Mestre e si diceva ieri sera in studio, ma di reazioni se ne vedono poche. Sentiamo cosa dicono, mi pare, i mestrini o i veneziani, vediamo. Ha tamponato lievemente con l'auto il veicolo di un 67enne mestrino in via Cappuccina e per un 54enne chiogiotto è iniziato l'incubo. L'altro automobilista è sceso con una spranga di ferro per colpirlo alla testa. A quel punto la moglie che era in auto terrorizzata ha chiamato la polizia. Il chiogiotto è stato trasportato all'ospedale con una prognosi di 5 giorni. L'aggressore denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e lesioni aggravate. Ma resta aperta la questione della mancanza di sicurezza in città, che i cittadini avvertono sempre di più e la paura cresce. Sarebbe ora di smettere l'agosto episodio e mettergli un altro lato tutto quanto, perché qua siamo di andare sempre peggio. Molte persone si cercano certe violenze con certi atteggiamenti e poi penso che però bisogna rafforzare la sicurezza. La sera quando mi muovo ho paura, io ho subito furto 60 ore fa. Io chiudo presto la sera, quindi diciamo nella giornata è abbastanza sotto controllo e quindi se avessi un locale che chiude tardi sicuramente si avrebbe paura. Noto che comunque anche negli anziani, noto anche tutti gli episodi che stanno succedendo, che appunto servirebbe un aumento di sicurezza che non è tangibile in questo momento. Non ho paura, in generale no. Cerco magari di evitare le strade più pericolose. Altro che. Perché? Perché che c'è tutto. Mio figlio abita lì e deve accompagnare casa, scende dalla filovia e deve venire giù a prendere mamuli e anche tutta questa genia che abbiamo qua. Troppo gli estri comunitari non va bene così. Sostenerli, gli domandano sempre l'elemosina e qua e là non va bene. Io credo che le istituzioni ne possano prendere atto e quindi ne possano considerarle come un problema davvero. Di che cosa? Paura? Anche delle istituzioni. Qualche sbrangata a qualcuno del governo gliela darei anch'io. Allora, beh, ieri qualcuno diceva, ma Tonella, in fondo si prevede un grande successo all'Europea, si parlava di questo, del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, che sono due partiti che non hanno mai cavalcato appunto il tema della sicurezza più di tanto. Quindi, diciamo, ciò dimostrerebbe che si vince anche senza che ci siano dei cavalli di battaglia particolarmente veloci, diciamo così. Dipende anche da come si intende la sicurezza. Certamente noi non abbiamo mai, diciamo così, esasperato questo tema o strumentalizzato questo tema, ma affrontato sì, perché sia il tema della legalità, sia il tema della lotta alla corruzione, sia la lotta alle mafie, sia il tema della sicurezza sociale, sono temi che il Partito Democratico ha sempre portato avanti, per cui, diciamo così, la sicurezza non deve essere vista solo meramente come ordine pubblico. Poi, tra l'altro, sulla questione dell'ordine pubblico, della legge, del rigore, mi pare che in questi anni il centrosinistra molto spesso abbia difeso la legalità in maniera più salda di quanto abbiano fatto forze, che per anni si sono richiamati questi valori, ma che erano disposte a qualsiasi cosa. Per cui, no, oggi come oggi, noi in realtà, se vogliamo proprio vederla, proprio perché cerchiamo di fare qualcosa, di portare fuori dalla crisi il Paese, anche di andare in Europa e rinegoziare alcune regole, alcuni indirizzi di politica economica, siamo la forza che lotta per la sicurezza del nostro Paese. Diciamo così, possiamo dirlo tranquillamente? Siamo la forza che, diciamo così, in questo momento, dà l'unico punto di riferimento per la messa in sicurezza di questo Paese. Quindi siamo la forza della sicurezza. La Lega Tradito e il Veneto cosa vogliono? Ancora, senta l'onorevole Lanzarena, poi c'è il fattore B, è tornato in campo Berlusconi perché, nonostante questa condanna ad assistere gli anziani quattro ore al giorno, cioè quattro ore in un solo giorno alla settimana, avrà tutto il tempo per fare quello che ha fatto già in campagna elettorale, sulle televisioni. insomma, e quindi qualcuno dice anche, essendosi automaticamente conquistato con questa sua permanenza nel centro di Cesano Boscone ad assistere gli anziani, anche il consenso della terza età. Secondo lei è in grado il Cavaliere, anzi si deve dire adesso l'ex Cavaliere, di fare una delle sue storiche rimonte o ormai è una fase che è terminata? Come la pensi? Credo che da Berlusconi ci si può aspettare di tutto. Di tutto. Quindi abbiamo visto chi lo dava per morto, invece cosa è successo alle ultime politiche, quindi insomma per un soffio, quindi effettivamente non c'è stato il sorpasso, quindi insomma di detrattori ne ha avuti tantissimi, farà la sua partita, il partito si è diviso, insomma molti problemi interni ce li hanno e non so però, insomma su Berlusconi credo che nessuno possa mettere mai la mano sul fuoco, però il timore invece mio personale, credo principale è quello dell'assenteismo, io ho paura che invece non è una questione, ci sarà il PD che perché ha il traino di Renzi, perché insomma è diventato ormai anche il PD come lo è stato e lo è Berlusconi, insomma un partito ormai, un partito concentrato sulla figura di una persona, lo stesso Cacciari mi sembra che lo va dicendo ripetutamente che il PD è Renzi, cioè senza Renzi il PD sarebbe svuotato completamente, la stessa cosa che è successo per Berlusconi e per il PD, forse Italia prima, PDL dopo, però a parte il successo che potrà avere il PD su questo traino, il Movimento 5 Stelle in crescita nuovamente per il malessere e tutto il resto, io credo che il dato forse più importante sarà quello dell'astensionismo, perché abbiamo visto le ultime elezioni che ci sono state e quindi effettivamente come il partito dell'astensionismo sia stato uno dei partiti principali che ha partecipato alle ultime tornate elettorali, in questo momento poi se parliamo di un'Europa, un'Europa che tutti sentono lontana, la sentono effettivamente come la causa principale della crisi, dei mali, del malessere, della sofferenza che sta vivendo il nostro paese eccetera e quindi secondo me quello da considerare sarà soprattutto questo, poi i singoli partiti faranno ognuno la propria corsa, il fronte abbiamo visto cosa è successo in Francia e quindi con i partiti appunto della Francia, i partiti appunto anti-europeisti e quant'altro, vedremo cosa succede e credo che la partita sia aperta, però la mia preoccupazione è proprio quella dell'assenteismo, perché effettivamente un'Europa così lontana e così inutile come viene vista e vissuta ora credo sia abbastanza insomma eclatante, insomma c'è l'Europa alla fine, abbiamo solo incombenze, abbiamo solo rigore, abbiamo solo dover continuamente rispettare parametri che soffocano, che non ci permettono di crescere, che non ci permettono di rilanciare, che non ci permettono comunque di avere anche quel ruolo leader che abbiamo sempre avuto, quindi questa è la sensazione che si respira. Allora in Europa, non so se ne siete al corrente, ci sono anche gli europarlamentari cantanti e allora a grande richiesta riproponiamo la clip dell'onorevole Tiziano Motti di scelta civica che si è riproposto come rapper. Era quello che si era candidato senza partito? Con l'Udc? Esatto. No, con l'Udc mi sembrava, no? E poi l'Udc era uno che aveva investito milioni di euro, con sta faccia, la vede da tutte le parti al tutto, io ho investito, chi è che mi vuole? Ah beh, me l'abbiamo scoperto e me l'abbiamo scoperto. Tiziano Motti di scelta, come si era candidato, quando gli stipendi degli europarlamentari erano un po' più alti, dopo gli erano ridotti e ho detto cavolo, un investimento fuori. Vabbè, allora guardatelo nei panni di una pop star, sentiamo questo brano. Quando un politico promette che farà, chissà qual è, chissà qual è la verità, perché nel cuore forse sa quello che fa, però il potere è una poltrona comoda. Un uomo corre nella notte, nella via, un altro rincorre, non sai che cosa sia, è il primo che ha rubato, il secondo ruberà, se vuoi aiutare il buono, tra loro chi sarà? La verità è che forse non c'è. La verità è che forse non c'è. Allora, voi non avete idea di cosa ha detto l'onorevole europarlamentare Andrea Zanoni quando avevamo mandato in onda questo e avevamo al telefono a Motti e si sono vicendevolmente insultati, per modo di dire insultati. Zanoni diceva, ma pensi a stare in aula e a fare delle proposte di legge piuttosto che andare in giro a fare il cantante, no? Come la pensa Zuanic? Zuanic la pensa che persone così veramente sono un'offesa alla politica, perché la politica si fa, come dicevo prima, in strada per aiutare la gente e non certamente per diventare dividi Hollywood o presunti tali, insomma, è vergognoso, direi che è un atteggiamento vergognoso. Ma l'ha candidato il tuo partito? Certo, e io me ne vergogno. Quindi io sono... No, riconosco la vostra intellettuale, certo. Esatto, persone del genere che sono state presentate da persone, perché ovviamente si viene votati da persone che 5, per tutto il suo percorso politico europeo, non si è mai fatto vedere. Non lo chiamavi al telefono? Mai fatto vedere, no, ma neanche non voglio conoscerlo, cioè proprio non... Dovevi chiamarlo, non mi rispondeva, rispetto alle tue cose, se vuoi chiamarlo tu, o se vuoi imparare qualcosa da lui, fa il cantante anche tu, e allora lasciami parlare perché non ti ho mai interrotto, quindi mi raccomando. Era per ridere su Motto, insieme. Quello che voglio dire io è questo, che questi non sono sicuramente politici che vengono rappresentati da noi. Noi siamo di un'altra specie, di sinistra, di centro, di destra, benetisti, impetentisti, quel che sia, però comunque sia noi siamo politici, persone così sono cantanti, fanno spettacolo, diciamo così. Allora, abbiamo ricordato la vicenda delle panchine prima, tolte a Treviso, anni fa, e adesso a Mestre. Vediamo un altro fatto accaduto a Treviso che ha suscitato le ire del sindaco Giancarlo, l'ex sindaco Giancarlo Gentilini. Vediamo il servizio della nostra redazione trevigiana. Le panchine, i cancelletti, i cancelli di Sant'Andrea, insomma, sono delle chiusure, sono delle limitazioni. Credo che sia opportuno che l'accoglienza di questa città, che è sempre stata una delle sue caratteristiche, si manifesti anche nell'eliminazione di alcune barriere. Via i cancelli e i giardini di Sant'Andrea, così da Cassugana, la rimozione entra l'estate. Io credo che prima dell'estate la cosa potrebbe funzionare, ma è una mia ipotesi. Una vergogna ne va di mezzo alla sicurezza della città, considerato il degrado sociale presente in quel parco, così gentilini nell'apprendere la notizia. Io sai cosa farei? Chiamerei quegli spandi letame che erano alle quote latte e dipingerei questo comune con quelli quame. Questi stanno distruggendo la città di Trevio. Mercoledì 30 aprile la mozione all'ordine del giorno nel corso del prossimo Consiglio Comunale. Verrà votata e verranno introdotti nuovi elementi all'interno del regolamento comunale. elementi che sono di normale civiltà. C'erano dei divieti veramente strani. Questo è Said Chaibi di Sinistra Ecologia. Mi ha detto dove si dice Caibi. Fa senso. Caibi. 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 Allora, Giovanni Tonella, gentilini sempre durissimo. Ma no, vabbè, sì. Devo dire che il Consiglio Comunale è abbastanza silente, però, insomma. Ma anche quando governava era molto silente. Lui però. La questione delle panchine è una roba iper superata. Tra l'altro c'erano anche in alcuni posti, perché sono tutte cose così. Nulla di rilevante, onestamente. Nulla di rilevante. Poi il parco è degradato già adesso con i cancelli. E quando torneremo i cancelli sarà degradato uguale. Insomma, mi pare che non ci siano molti argomenti. Invece, cosa positiva, abbiamo messo molte risorse per intervenire sugli alloggi del Comune. Il Comune di Treviso in questi anni ha abbandonato molti alloggi, non facendo gli interventi necessari. Quindi abbiamo un grande patrimonio non utilizzato a proposito di efficienza e di spreco. E stiamo mettendo risorse anche per affrontare i problemi degli sfratti che stanno in questa fase molto difficile aumentando. E quindi noi cerchiamo di mettere a posto gli appartamenti diciamo abbandonati e lasciati degradare dall'amministrazione precedente. per dare risposta alla gente in difficoltà. Gentilini, pensi alle sue panchine, insomma. Tra l'altro è un uomo esperto ormai di panchine e di giardinetti. Allora, è vero. Questa è una cattivaria che ci poteva anche risparmiare. Però è vero. Sì, però è stato applaudito da tutta Italia, comunque. Allora, complimenti al Sindaco. Non è vicino che ce l'abbiamo ingiunta. Il Sindaco di Vidor mette in mostra le foto di persone meritevoli che siano un esempio di vita. Altri comuni abbiano la stessa determinazione. Il Sindaco di Vidor ha tolto, come avrete saputo ieri da Focus, la foto del Presidente Giorgio Napolitano. Antonio Brescia. Ma è grave anche questo. È molto grave. Io non ho mai messo. Ma, beh, rispetto alle questioni che sono state sollevate anche con i servizi che hanno riguardato Treviso e Venezia, visto che anche noi, insomma, andiamo al voto il 25 maggio a Padova, credo che sia importante fare una riflessione comunque sul tema della sicurezza, che è uno dei temi, insomma, più sentiti da parte dei cittadini. Noi, tra l'altro, come Partito Democratico, domani presentiamo a Padova il risultato di una campagna di ascolto che abbiamo fatto e che ha coinvolto più di 4.000 persone, a cui abbiamo dato dei questionari e abbiamo, insomma, contattate per questo motivo e che ci hanno dato dei contributi di idee rispetto al futuro della città. E, insomma, tra i vari temi c'è sicuramente quello del lavoro, dell'occupazione giovanile che è molto sentito, quello dell'ambiente, ma quello della sicurezza che è particolarmente in crescita. Quindi tutta l'attenzione anche da parte dell'amministrazione attuale è proprio quella di mettere in campo ogni misura necessaria per far sentire tutti i cittadini, nessuno escluso, insomma, al riparo rispetto al tema della sicurezza e al tema, appunto, della microcriminalità. Per questo noi abbiamo fatto un'azione molto incisiva, quindi abbiamo l'80% di vigili urbani che sono al di fuori degli uffici e sono stanziati per il presidio del territorio. Abbiamo fatto un provvedimento contro gli accattoni che, tra l'altro, è stato ripeso anche dalla città di Treviso e della città di Venezia che ha già dato un po' il senso della città metropolitana che su alcuni temi si riconosce. Abbiamo nella zona stazione vietato l'utilizzo di alcolici, la vendita di alcolici, quindi c'è un'azione veramente determinata, veramente forte da parte dell'amministrazione per andare a risolvere il problema. Cosa vogliamo fare poi in futuro? Sostituire buona parte dell'illuminazione pubblica della città. L'idea è quella di passare dall'illuminazione attuale all'illuminazione a LED che ci permette di risparmiare risorse perché insomma consuma di meno e al tempo stesso ha un'illuminazione migliore che ci permette anche di illuminare delle zone che adesso sono un po' più oscure e quindi darebbero un maggiore senso di sicurezza ai cittadini. Le misure poi sono ovviamente tante, questa è solo una di quelle che vogliamo mettere in campo nell'immediato perché è una risposta che il centro-sinistra dà, quello sulla sicurezza e continuerà a dare. Voglio ricordare che anche il sindaco di New York, Bill de Blasio, che è un esponente del Partito Democratico, ha sempre detto che la disciplina e l'ordine pubblico sono valori di sinistra e credo che anche in Italia, anche a Padova, lo stiamo dimostrando con i fatti e con la concretezza. Scusa, ma in dieci anni di sinistra cosa è stato fatto? Non si può neanche parlare della strada? No, non è vero. Non è vero. Come non è vero? Io a Padova non mi è mai capitato niente. Ah, vabbè, si vede che sei stato fortunato. No, no, sono stato sfortunato, vi stai esagerando, vi stai esagerando. Potevi andare ai giardini, potete camminare, potevi uscire di sera, di notte, adesso non è più possibile. Se hai delle figlie le tiri a casa perché non sono fresca di stamattina, va bene, piazza della frutta, all'angolo di piazza della frutta, tu devi comprare là con tutte le merci stese per terra. Ma guarda che a Padova si è sempre fatto una grande azione. La stanga, non vi dice niente la stanga. Mi ricordo Prato della Valle, prima di Zanonato, era veramente un apposto. Io ricordo la zona stanga, c'è tutta la zona là dove c'erano, com'è che si chiamava, via Anelli e tutta la stanga. Non c'è niente più possibile, non è, ci sono gli appartamenti, gli appartamenti di via Anelli sono tutti là abbandonati. Sono tutti là, sono tutti là perché siamo agito, abbiamo agito, abbiamo agito, avete agito, cosa avete agito? C'era una situazione insopportabile. Ti piaceva come era prima? Cioè, come era prima? No, come era prima, si risolvete in modo diverso. Ah, sì, sì. E' il numero là che è diventato fatto un po' di New York. Intanto noi parliamo. E adesso avete la sicurezza come primo argomento, come primo problema, ma non vi crede mica nessuno? No, non solo, ci sono tanti altri. Voi fate la campagna solo sulla sicurezza. Non solo sulla sicurezza. Perché volete, volete fare la campagna solo, non solo, non solo, non solo, non solo giocando sulle paure delle persone. Ah, grazie. Noi sappiamo che il problema della sicurezza è quello che l'ha sentito come altri. Risolviamo quello, ma parliamo con fiducia al futuro della città. Non vogliamo solo parlare la pancia, quindi, instillando la paura delle persone. Questa è la differenza di impostazione culturale che abbiamo tra noi e voi. Io credo che chi vuole una padova orientata al futuro, sceglierà per chi risolve il problema della sicurezza, ma parla di economia, parla di lavoro, parla di ambiente, parla di futuro per i giovani e in una dimensione organica. Non di chi solo sa parlare alla pancia delle persone. Adesso vediamo, adesso vediamo, senza strumentalizzare. Così, come vi mettete, abbiamo rispetto, abbiamo rispetto, così come parlate adesso della sicurezza, stessa cosa del lavoro. Quale lavoro? Tutte le industrie ferme, chiuse, quante sono? Addirittura, voglio dire anche di più, che poi c'è perfino, ho saputo che c'è una società, vedete, non so se sia regionale o di cosa, che, aspetta, che siamo a Finest, va bene, che paga, attenzione, Ma se è regionale devi parlare a qualcun altro. Sì, sì, ma parlo, infatti, sto parlando anche a qualcun altro, che parla di dare i soldi per i prenditori che vanno a delocalizzare. Allora, questi qua ricevono i soldi per andare via dal Veneto e lascio i Veneti senza lavoro. Vabbè, questo è un problema grave. Allora, dovrebbe essere il problema del lavoro, il problema di tutti coloro che sono giovani, disoccupati, esodati, quelli che hanno 50 anni non so più cosa fare. E qual è la proposta di Sai? Allora, questo di Sai vedrai che adesso te la dici. Allora, Giovanni, se la dobbiamo pure venire, se la copi, se la copi. Io ho due piccole cose da dire, non conosco la realtà di Padova, quindi non posso parlarne, loro sicuramente sì, però posso dire che comunque il PD veneziano, in realtà, invece, ha permesso la mendacità a Venezia. Questo è un dato di fatto, perché noi volevamo che assolutamente fosse... Cioè, fare l'elemosina è una cosa bellissima se fatta nel cuore. Ma quando invece si vanno a riempire le tasche di quell'industria che io chiamo della povertà, a scapito delle persone che credono in quello che fanno, questo non va bene. E Venezia è veramente piena, non so Padova, ma è piena di... Guarda, scusate, mi sono vinciso, anche il Soglie ha fatto la stessa norma anti-racket, anti-accattonaggio che abbiamo fatto a Padova. Cioè, noi ci stiamo impegnando contro... E anche, mi posso dire, che la mendacità è stata permessa dal PD. Eh sì, è comissima, è comissima, è comissima, è comissima, è comissima, è comissima. Grazie a tutti, grazie a tutti, chiudiamo qui la nostra settimana con Focus. Vi ricordo domani sera l'intervista a Luca Zaia alle 21.05, titolo Giù le mani dal Veneto. Così dice Zaia e parlo ovviamente di tante altre cose. Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi. Buona Pasqua, faremo gli auguri anche domani ovviamente, però buona Pasqua anche da tutti noi di questa puntata di Focus. Buonanotte, arrivederci, arrivederci. Grazie a tutti, grazie a tutti.